Ma di nuovo, a parte che era una partita diversa dalle altre, poi è normale che se tu prendi gol così, poi è difficile. Noi avevamo le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato e giustamente li paghi, poi Pinetto si è messo un po' più dietro e noi cercamo di sfondare sulle fasce anche se, anche se era in partenza dichiarato che due stermi davanti devono andare nel mezzo. Si stanno sulla fascia e poi fanno percussione, è difficile arrivare. Ma Riani ha fatto di più, Riani ha fatto di più, ma io volevo che giocava nel mezzo il problema è che se si gioca solo sulla linea è più facile all'avversario di chiuderla perché sono sempre in superiorità numerica giocando a cinque. Quando ho cambiato con l'argoni cupone poi non ci ho pensato ma io indicavo, visto che sotto di me c'era Cangiano ho detto di giocare nel mezzo, lui ci è andato solo l'ultimo minuto. Ma perché Paolo è più offensivo rispetto a Squizzato, come pensavo di fare le partite che dovevamo attaccare lui è più attaccante, che poi ha giocato troppo lento e troppi tocchi è un'altra cosa. Anche lì troppi tocchi se non c'è gente che va nel mezzo dentro è difficile. Paolo Pineto fa il suo campionato, è normale che loro erano non favoriti e hanno fatto di tutto per cercare di non farci giocare. È normale, è un comportamento giusto per una squadra così. Se noi non riusciamo a fare gol su tre o quattro occasioni davanti alla porta è normale che poi sul primo errore di Imbrosco prendi gol. E ti diventa più difficile perché ci credono di più avversari. Purtroppo lui vuole fare tanto e volendo fare tanto da solo non fa niente. Ma noi la mancanza sottoporta l'abbiamo dall'inizio del campionato perché abbiamo sbagliato tanti gol. Il problema è che siamo convinti che prima o dopo lo facciamo e quando non lo fai perdi la partita. Io con i giocatori dopo la partita non parlo perché potrei essere pesante. Quindi ne parliamo domani. Non mi è incazzato. Dico che la squadra ha tentato di fare con i mezzi sbagliati. Come abbiamo dichiarato diverso di gioco. Mi dà fastidio quello che non riusciamo a leggere la partita. Poi siamo rimasti tre a destra e tre a sinistra. E poi è difficile arrivare contro chiuso. Posso capire se ce l'apriamo, se gli altri giocano a quattro c'è più spazio. Ma ora c'è più spazio nel mezzo e infilarsi tra i tre. Che non l'abbiamo fatto. Ma io dico che si impara solo dalle sconfitte, non dalle vittorie. E come ne abbiamo fatti già quattro di fila, penso. Ricominciamo da capo.